da Alessandro Nellucci che assieme a me e Massimo Banzi ha curato questa Maker la discussione vera che c'è stata fra i giurati. Volevo chiamare sul palco tutti i finalisti, se ci sono. Ci siete ragazzi? Sul palco, così scegliamo insieme il vincitore. Prego, tutte e dieci. Prego, qua, tutti da una parte. Un applauso per i dieci finalisti della Maker Faire di Roma. Allora, vorrei chiamare da questa parte Neil, Bruce, Simona, here with me, please. So, before saying the winner, why it was so complicated? What was the discussion about? Well, it was one of the liveliest debates I've seen as a juror, actually. And we were torn between things that we thought would really help the world and things that we thought were just incredibly technically cool. Yeah. And at the end, it was, I mean, Sherry, please, you have to give the award with us. Since Tagliavanti already flew away before signing the ticket, the check. So, it's important. So, maybe you have to do it. At the end of the discussion, the three of you were on the same position. You agreed on the winner? Yeah, it was a really natural process. I think we all, you chose us well, I guess, because we all kind of think alike. Okay. Simona, visto che, come ci siamo detti all'inizio, tu eri l'unica donna e ti chiamavi anche maschi, io ti vorrei dare il privilegio di annunciare il vincitore del primo Ron Price. Sì. Allora, innanzitutto ci terrei a dire che tutti voi avete già vinto, perché siete comunque dieci selezionati su 450. Quindi, un altro applauso, scusami se faccio il tuo lavoro, ma dovete tutti pensare che avete già vinto, perché non era facile, come prima cosa. La seconda è che il vincitore è Talking Hands. Wow! Ragazzi, voi dove siete? Ragazzi, volete fare una foto con la giuria? Non abbiamo fatto il classico assegnone grande, ma... Aspetta che non abbiamo finito. A un certo punto arriverà, prego. C'è la seconda cosa, abbiamo una terza cosa. Ci siamo presi la libertà di creare un premio d'onore, si può dire, Riccardo? Sì. Maker of Merit, richiamiamo, no? Giusto? C'è un premio che non verrà premiato, diciamo, con la somma di 100.000 euro, ma con una grandissima menzione d'onore proprio per l'impatto sociale che potrebbe avere in alcune zone. E maybe you want to mention the honor? Yes. The honor? Right? Yeah. We really liked the Slovenian laser communication system, actually. Yeah. I'm sorry you didn't get the money. If it had been a matter of cyberpunk street credibility, you would have walked away with it. So we invented the honorable mention, and you get the honorable mention. Allora, grazie ragazzi, grazie a tutti. Grazie a Nick Hersh, a Bruce Sterling, a Simona Maschi, per averci aiutato a lanciare questo Ron Price. Noi speriamo di aver spiegato a tutti che sì, i makers fanno delle robe divertenti, a volte ci fanno ridere, ma fanno delle cose che davvero possono cambiare il mondo e renderlo migliore. Con questo premio volevamo comunicare questo. Davvero, questi ragazzi fanno sul serio. Grazie a tutti voi. Domani c'è un altro giorno di makers. Grazie alla giuria. Grazie ragazzi. Grazie a tutti.